Ok, facsimili sono qua, li scarico tutti così forse neanche serve Per chiunque ci sia potete partire a fare anche domande voi Adesso sto solo cercando di scaricare i facsimili, così ci sono domande sui facsimili Ce li ho già Primo anno di laurea, sei giusto Non me li scarico, vabbè non importa, li apro tutti, almeno ce li ho qua Ok, ne ho un'altra qui Ciao Ste, ciao Sky, ciao Henry Scusate il raffreddore quindi ogni tanto mi muto per soffermi il naso perché è veramente devastante Ciao Gunplank, Gunplank, è giusto sì Non so se partire con un esercizio a caso magari del pratico, proviamo a farlo E la teoria aspetto domande oppure poi parto a fare un facsimile Sarà questo no, il main No Questo è il main A parte che li ho già fatti tutti Sì questi qua li ho già fatti tutti quanti Anche già commentati Vediamo se ce n'è qualcuno che non ho fatto Anche se non sono sicuro di trovarlo Qua cos'è? Costruire una lista di contento Vabbè provo a fare... ne faccio uno mentre aspettiamo che arrivi chi fa domande e... e niente Vabbè, allora andiamo a vedere cosa chiede questo metodo qua Costruisce una nuova lista contenente e coppia degli elementi della lista data Che risultino maggiori della somma di tutti gli elementi precedenti nella lista di partenza Il primo elemento non dovrà essere eliminato Ok La lista originale non deve essere modificata La lista deve essere scandita una sola volta Quindi non ci sono due while Creare elementi... creare elementi... creare elementi maggiori della somma precedenti Ehm... Ma è già fatto? No, 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 non lo vogliamo, è già fatto Ma facciamo così, facciamo... Facciamo che lo commentiamo Aspetta, forse ho sbagliato la graffa Sì... C'è un meno Ok, così dovrebbe andare E... facciamo che... Questo qua lo mandiamo giù, così non lo vediamo e siamo a posto Così almeno abbiamo anche la soluzione nel caso Questo qua è un esercizio penso del pratico comunque Queste qua sono tutti... Esami del... Del pretesto Mi si sente, sì? Sì Quindi dicevo... Quindi lui chiede di effettuare la somma Eh... Effettuare la somma di tutti gli elementi precedenti L'elemento attuale E... Copiare l'elemento attuale Solo se la somma dei precedenti è minore Se non sbaglio Sì... Deve essere... La somma dei precedenti deve essere minore del numero attuale Altrimenti il numero non viene copiato Quindi... Intanto qua abbiamo mia lista Che è la lista... Vabbè, forse questo metodo qua non era già fatto Non lo so Però... Comunque è abbastanza semplice Nel senso che... Questo qua è il metodo contenitore Questo qua invece è il metodo che va a ricorsione O... Non so se è da fare per forza ricorsivo o no Magari si può fare anche iterativo e basta Vediamo se lo fai iterativo No, è ricorsivo, ok Quindi ricorsivo Questo qua è il metodo che va a... Ciao Sasso 99 iscritto di cambi Ciao Luca Comunque... Questo qua è il metodo wrapper Come lo chiamano Penso i professori E... E... Qua dentro quindi cosa fa? Lui semplicemente fa il test... Se esiste il primo Quindi se la lista non è vuota Come in questo caso qua Se è vuota restituisce una nuova lista Che sarà la lista vuota, ok? Quindi restituisce sempre una lista vuota Quindi questo fa solo questo controllo qua Quindi se esiste il primo Allora entro nel metodo ricorsivo Tutto qui Non fa nient'altro Nel frattempo qua invece dobbiamo andare a vedere intanto cosa viene passato al metodo ricorsivo Abbiamo la lista che sarà questa penso quindi E infatti qua viene passata... Cioè vabbè qua l'avremmo dovuto fare noi comunque viene passata questa L'index dell'elemento attuale E ovviamente l'index dell'elemento attuale all'inizio è first, ok? L'index dell'elemento attuale in realtà è semplicemente l'elemento attuale Infatti è un listelem, è un nodo, ok? Quindi c'è tutta la lista completa nuova, il nodo e l'intero somma E lui in intero somma ci mette già... Ehm... In intero somma ci passa già first Direttamente Quindi già somma first Nel frattempo Allora Li passa first Quindi, vabbè, io non l'avrei fatto così probabilmente Li controllerà sempre al next E infatti Vabbè, no Allora rifacciamolo tutto così Ha più senso Lasciamo solo qua mia lista res Allora qua controlliamo sempre se Dis.first Diverso null Io faccio qui Seguo la null Return Res Else Che cos'è sta cosa? Perché l'ha fatta? Ok Else Elimina Minori Somma E li passiamo La lista nuova che si chiama res Li passiamo Index E li passiamo Insomma E li passiamo a zero Index Sarà quindi Il nostro Dis.first Adesso vediamo Magari poi bisogna farlo per forza con Index.next ogni volta Perché Se no fino a lista Vediamo Cosa succede Però se lo gestiamo in modo giusto Secondo me si può fare lo stesso Allora Qua cosa dobbiamo fare? Per controllare se l'elemento va inserito nella nuova lista Dobbiamo controllare se la somma è minore della index Allora io Forse E' più giusto come ha fatto lui Semplicemente perché Il first va sempre inserito E quindi controllando il next E passando già il first Però il first come fa a passarlo lui? Scusami Lista index.getnext Se il dato è maggiore uguale della somma Lista.insert Index.getDato Non c'è un guai Non c'è niente Va bene E Ho capito Però come ci va la ricorsione Non so se funziona questo metodo qua Non l'ho controllato Però Sembra strano perché non va in ricorsione quando 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 passa il dato Cioè qua probabilmente dovrà richiamare di nuovo la Lista index E bla 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 Quindi Non so Qua è giusto che faccia la insert perché fa l'if Vabbè non importa Andiamo avanti a farlo come abbiamo pensato noi Poi vediamo Allora il primo va sempre inserito Io metto caso che non ci siano numeri negativi In realtà numeri negativi ce ne possono essere Quindi in realtà possiamo fare così Possiamo fare Che il primo lo andiamo a inserire qua E qua li passiamo già al secondo Ecco facciamo Res.insert Devo vedere il metodo insert cosa chiede Il metodo insert chiede un valore Quindi passo first punto Punto Get elm sarà tipo List elm first Bla bla is empty to string Devo andare a vedere List elm java Ed è Get dato Ok get dato Quindi Get dato Possiamo farlo in questo modo Poi lo possiamo fare anche in un altro modo Andiamo a vedere poi come farlo in un altro modo Quindi è Res.insert Dove res è una lista E insert è un metodo Della lista che inserisce un nuovo nodo Con first punto dato Facciamo dis.first.dato Dovrebbe essere Sì Siamo dentro al metodo Quindi sì Ok vabbè non importa Facciamo first punto dato Tanto funziona uguale E poi Una volta che abbiamo inserito il primo Andiamo a passare direttamente Secondo E qua passiamo il first punto Get dato Come ha fatto prima lui Quindi noi cosa facciamo Se Il first uguale null Quindi non c'è un first Quindi la mia lista attuale È vuota Allora vado a restituire una lista vuota Giustamente Altrimenti vado a inserire il primo elemento della lista Perché vuol dire che il primo elemento esiste Vado a inserire il primo elemento E poi vado a chiamare il metodo ricorsivo Andando a passare il primo elemento E Scusate Il secondo elemento della mia lista E Passando Nell'insomma Il primo Quindi intanto andiamo a controllare se L'elemento attuale Quindi la index È diversa da null Perché Se la index È diversa da null Posso andarci a lavorare Se Se Al contrario È uguale a null Vuol dire che sono arrivato a fine lista E di conseguenza Devo andare a fare Un Return Lista E qua manca Si Probabilmente è più ottimizzato Come l'aveva scritto lui Il test qua Lui fa Return res Nel momento in cui È uguale a null Quindi Lui fa questa cosa qua Adesso Mettiamo a posto Così è un po' meglio Ok Così nel momento in cui Finisce questo metodo qua Va a fare Return res Se invece Il first È uguale a null Salta tutto questo E va a fare direttamente Return res Così è un po' più ottimizzato Ci sono meno test Ok Quindi Continuiamo qua Dicevo Se la index è diversa da null Posso andarci a lavorare Se invece la index è uguale a null Ma vuol dire che sono arrivato al termine della mia lista corrente Quindi Riturno La nuova lista Ok E fin qua ci siamo A questo punto Andiamo a vedere cosa Andiamo a vedere se La index.getDato Scusate È Maggiore Non so se è maggiore o maggiore o uguale Noi mettiamo maggiore È maggiore della somma Allora possiamo fare una Eh Lista punto insert Di che cosa? Di index.getDato Ok E poi Possiamo andare a chiamare la ricorsione dopo Tanto la chiamiamo Se invece non è così Andiamo direttamente a chiamare solo la ricorsione E possiamo andare a scrivere Elimino minori somma Con Eh Lista sempre passata uguale Index.getNext E Somma Che sarà uguale a Somma Più Index Eh No Sì Sì Index.getDato In questo modo quindi cosa facciamo? Lo controllo un attimo Poi lo provo a eseguire Al massimo se è sbagliato Andiamo a vedere cosa c'è di sbagliato Allora In questo modo cosa succede? Succede che All'inizio viene creata la lista nuova Se esiste un first Allora vado a inserire il first nella nuova lista Elimino E vado a chiamare la funzione ricorsiva Eh Elimino minori somma E li passo la lista Con già il primo inserito Quindi li passo il secondo Non posso fare .next Vado probabilmente dovrò fare .getNext Eh Quindi first.getNext First.getDato Perché nella somma Li passo già Il primo elemento Perché se il secondo elemento È minore del primo La somma Degli elementi precedenti È maggiore Dell'elemento attuale E quindi non devo andare a inserire Quindi nel momento in cui entro qua Cosa succede? Controllo intanto che L'elemento non sia nullo Nel momento in cui per esempio Il secondo elemento fosse null Io andrei a ritornare solamente la nuova lista Per in questo caso qua Ad esempio Ok? Dovrebbe funzionare Nel momento in cui Invece L'index Quindi il secondo elemento È diverso da null Cosa succede? Allora vado a controllare Che l'elemento Sia maggiore della somma Qua forse c'è anche scritto Maggiori della somma Quindi maggiore Maggiore della somma Se lo è Allora vado a inserirlo Nella nuova lista Che sarà lista Ok? Qua viene chiamata lista Anche se qua viene chiamata res Insert index.getDato Perché vuole un intero Quindi index.getDato E nel caso in cui Fosse vero Quindi abbiamo detto Entro qua dentro E faccio questo E dopo vado a fare La chiamata ricorsiva Quindi vado a rientrare nel metodo Passando ai nuovi I nuovi parametri Diciamo Mentre A questo è un void Quindi non serve neanche Return a lista Ok? Quindi nel momento in cui Lui mi fa Questo if Non viene Non viene Non viene fatto Nel momento in cui L'index uguale a null Termina semplicemente il void Quindi noi stiamo andando Ad aggiornare la lista Non deve ritornare niente Questa qua ha la funzione Che deve ritornare Quindi non serve neanche Return Di lista Ok? Quindi Nel momento in cui Quindi facciamo questo if Invece andiamo a fare questo E ci siamo Dovrebbe Dovrebbe essere giusto Adesso non sono sicuro Al 100% Però proviamolo Lista.java Usa la mia lista Cosa è successo? Adesso Main methods are not found Ma come? Ah ma non è test mia lista Ok 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 Allora Javac Oddio dove ho scritto adesso? No Fa niente Javac Test mia lista punto java Java test mia lista Ok un errore Allora Allora Sono tutti ok i primi C'è un errore sull'ultimo Perchè Ehm Nuova lista attesa Perchè questo? Non l'ho capito Vediamo Ok questa Lui vuole una nuova lista con 1 1 1 1 20 41 115 Giusto se Cos'è che c'è di sbagliato? La lista originale è questa La lista originale dopo è questa Ed è sbagliato Ok Quindi io cosa ho fatto? Semplicemente Non so perchè ci sia scritto nuova lista Atteso Ehm Ah questa qua è quella che ho ottenuto io Questa è la lista originale La lista originale dopo Non importa Comunque io li inserisco così Invece lui li vuole per cosa ha? Ah probabilmente la insert inserisce Davanti Vediamo Penso che sia questo il problema Infatti anche qua da errore L'ho inserito al contrario Ok Quindi non ho guardato il metodo insert Probabilmente quello che mi ha fregato E infatti Val ListElem Uguale a new listElem Elem.setDato Val Bla 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 E poi il first diventa uguale a elem Quindi lui lo inserisce Davanti Lo inserisce come first Il nuovo elemento che io sono andato A inserire Ok Quindi Non posso farlo così Non posso farlo così Perché se no Lo inserisce sempre come primo Quindi non va bene Va bene Ok Allora Potrei andare a fare che Potrei andare a fare questa cosa qua Vediamo se funziona Potrei andare a chiamare direttamente il prossimo Se è così Altrimenti Niente È inutile Ma perché Adesso vediamo poi come ottimizzarlo Per ora lo scrivo così Per capire se è questo Il concetto che Vuole andare a Intanto il first non posso neanche inserirlo subito Lo devo inserire per forza dopo il first Perché se no diventa l'ultimo Non va bene Io ho bisogno che il first rimanga il primo Quindi non posso fare l'insert di first qua Vabbè in realtà Posso andarla a fare semplicemente qui Faccio presto Però vediamo Se questo è il discorso Che voleva fare Quindi andiamo a vedere Se adesso ha più senso Andiamo a fare Javac Non so perché è successo questo Facciamo Open terminal di nuovo Javac Test mia lista .java Java test mia lista Ok adesso sono tutti ok E va bene Nel senso l'esercizio è risolto Adesso se qualcuno non è chiaro Lo scrivo in chat Che lo rispiego Vado a vedere solo un attimo Se posso ancora Migliorarlo Perché Probabilmente è ottimizzabile Dato che qua faccio due chiamate ricorsive uguali Quindi Non ha tanto senso Probabilmente Il metodo per ottimizzarlo È scrivere questo qua fuori E Dopo fare il controllo Della somma dei precedenti Perché tanto rimane tale Quindi in teoria Se io faccio in questo modo qua Qua possiamo anche toglierlo Perché tanto è un'istruzione sola Perché a tanti non piace Già dopo questo Puoi fare qualche Esercizio sugli stack Soprattutto quelli con dis Grazie Quindi sì ho capito Quelli della Della prova di teoria Va bene Se me ne proponi uno Me lo mandi su telegram Lo scarico sul computer E lo vediamo tutti quanti insieme Così facciamo Facciamo quelli Se no vado a vederne uno Vado a cercarne uno Però se ne proponi uno meglio Anche se è dei facsimili Comunque Vediamo se in questo modo qua Funziona Intanto In teoria Dovrebbe andare anche così Ok Qua mi ha rotto Tre quarti Testami a lista Monta java Java Testami a lista Ok Funziona anche così E va bene Quindi questo qua Penso che è più ottimizzato di così Non riusciamo a farlo Tanto se la index È diverso da null Lo devo controllare Secondo me Perché se no Non posso fare il getDato Mi darebbe null pointer exception E Invece qua sopra Vabbè Ottimizzarlo qua sopra Non è ottimizzabile Il discorso è Possiamo farlo Senza fare la insert qua Ma facendolo insert solo qua dentro Si si può riuscire a fare Invece di passare il getNext Passo il first E Uso il maggiore uguale Sarà uguale e identico A come l'ha fatto lui sotto Perché Per fare in modo che Questo rest insert Is first.getDato Perché tanto A prescindere noi sappiamo Che il first va inserito Se esiste Quindi va bene anche qua In realtà Però per metterlo qua dentro E per fare in modo che Le insert vengano fatte solo dentro Questo metodo Qua Dovrei passare il getNext Ma dovrei passare il first E E Come Come Insomma Potrei passare Sempre il first Come aveva fatto lui Così vado a controllare Il post che è maggiore Controllo maggiore uguale E me lo inserisce a prescindere Perché ovviamente Il first È maggiore uguale Di se stesso E quindi lo sarebbe andato A inserire E quindi avrebbe funzionato E avrei Fatto esattamente Cioè il codice sarebbe stato Diciamo lo stesso Avrei aggiunto maggiore uguale qua E qua avrei passato Diversamente Vabbè possiamo anche provarlo In realtà Facciamo così Facciamo così E Così dovrebbe persino andare Vediamo se ha senso Dovrebbe andare anche così Esatto Ok funziona anche in questo modo qua Che è probabilmente lo stesso metodo Che ha usato Qua sotto O molto simile Comunque Esatto Se è diverso da null Entra qua dentro Ah sì È esattamente quello che ho fatto È uguale Identico praticamente a quello Che ho fatto io Solo che io Preferivo Evitare di usare il maggiore uguale Dato che nel problema C'è scritto solo maggiore E quindi nel caso in cui Esistesse per esempio Una lista del genere Una lista del genere Qual atteso sarebbe stato questo Ok? Non sarebbe stato 1 Cioè non sarebbe stato 1 1 Dato che dice che deve essere maggiore Quindi non c'è scritto maggiore uguale Penso Maggiori della somma di tutti gli elementi Quindi magari mi sarebbe stato dato l'ora in questo caso Per questo ho deciso di risolverlo in questo modo Non mi è stato detto che esistono Non esistono numeri negativi E quindi non potevo decidere di passare qua 0 Al posto che First.get dato E passare solo first Perché se first fosse stato meno 1 Doveva comunque essere compreso nella nuova lista Quindi io scrivo un numero negativo molto grande Ma questa è una cosa secondo me sbagliata Perché non abbiamo idea di cosa possa essere il primo Ok? Io lo lascerei così Che è quello che mi chiedeva il problema Qua ho tolto già il maggiore uguale Ok, io lo lascerei così Che questo è quello che mi aveva chiesto il problema Adesso lo resego per sicurezza Per vedere se è giusto Dovrebbe essere questo Ok, sì, è giusto Io lo lascio così Perché secondo me è la richiesta del problema È logico che sarebbe ancora più ottimizzato O meglio Sarebbe più pulito Se avessi fatto esattamente questo Nel senso Qua avessi passato Il first Il first.get dato E qua avessi messo il maggiore uguale Veniva più pulito sicuramente Però non Non è quello L'obiettivo non è renderlo pulito Ma probabilmente potrebbe essere sbagliato Ma è renderlo giusto e basta Quindi per essere giusto Qua c'è scritto maggiore Non maggiore uguale Quindi noi usiamo il maggiore Ok Questo è il discorso Se ci sono altre domande su quelli di pratico Finisco di fare quelli di pratico C'è nel senso quelli della Che avete domani mi sembra E poi continuo con il teorico Che tanto con l'attoria c'è tempo Poi tanto ci sono anche oggi pomeriggio Non so se Ok Mi è arrivato il file Vado un attimo a prenderlo Dove sei? Perché non c'è sul web invece? Ah l'hai mandato direttamente sul gruppo Ok Ok Dovrebbe essere questo Ce n'è uno solo spero Eccolo qua Ok Quindi questo è con l'albero Si è con gli alberi Io l'altra volta avevo provato a mettermi una webcam Sul carta e penna Ma alla fine non l'ho mai usato perché usavo paint Alla fine Potrei riuscirci lo stesso Nel senso che si può fare Anche se sono un po' scarso su paint Ma Si capisce abbastanza spero L'altra volta ero riuscito Perciò Allora io vado a Risolverlo spiegando I passaggi Perché disegno questo non lo stacchi Perché disegno quello nel leap E E E E E E E E Poi se c'è qualche dubbio scrivete Così almeno Risolviamo Ok Quindi Ehm Viene creata Ehm Si parte ovviamente Dalla prima istruzione del main Quindi questa 3t uguale a new leaf Ok Quindi intanto andiamo a disegnare lo stack Quindi Ehm Facciamo un rettangolo Facciamo uno stack qua Uno stack E qua ci sarà l'ip Ok Allora Andiamo a vedere nello stack Abbiamo Il main Che avrà String Sempre A prescindere Com'è in prog1 Anche in prog2 Abbiamo string Si Sono bravo Ok Abbiamo Args Scusate non string Devo dire Args Che Ci hanno detto Boh Può essere un puntatore che punta niente Basta Non starei neanche più a disegnarlo ormai Tanto penso lo sapete tutti Però Magari ingrandisco un po' il carattere Se riesco Non mi ricordo dove si fa Quindi evito per ora Poi lo faccio dopo E poi abbiamo Perché ho due cose a parte Ok Magari lo mettiamo Vabbè lo lasciamo qua 3T uguale a New Leaf Quindi abbiamo Vedete perché devo chiudere Telegram Che poi succedono queste cose Ma mi stanno arrivando un sacco di messaggi Vabbè lo lasciamo aperto Telegram Basta che non lo spammate raga Che sennò Non si capisce più niente Allora dicevamo Qua ci siamo Viene fatto un 3T Quindi andiamo a Nuova variabile del main Adesso poi disegno qual è il main E abbiamo un T Di tipo 3 Non so se Non mi ricordo se era da scrivere o meno La tipologia Comunque un 3T Io penso che sia da scrivere solo T Comunque Un po' piccole queste lettere O va Forse posso Un po' più carino così Ok Così si capisce Si vede Non so in stream quanto si vedono le cose Quindi Quindi E viene creato un nuovo 3T che punta a un new leaf Quindi è un'istanza di leaf Ovviamente il leaf sarà nel leap Ok? Quindi Instance of Un po' grande invece a questo punto di qua Un po' piccolo Instance of leaf Ok? Facciamo un rettangolino Un Un Questo Lo spostiamo un po' più sotto Così È più semplice da puntare Quindi abbiamo Il T che punta qua Ok Fin qua dovremmo Non ho più OBS aperto sull'altra pagina Così non leggo la chat Ok ci sono Ok quindi Qua abbiamo Prima istruzione fatta Ok 3T uguale new leaf E abbiamo il main Scusate Il main è questo Qua Si chiama main Ok Fin qua dovremmo esserci tutti quanti È abbastanza semplice A questo punto A questo punto abbiamo T uguale T punto insert Allora qua intanto abbiamo un assegnamento Non andiamo a disegnare niente Andiamo a vedere cosa fa T punto insert m3 Allora qua dice di usare delle cifre Io Le prendo a caso Che non voglio andare a prendere il numero di matricola O se volete propormi voi Se volete propormi voi dei numeri O i vostri numeri di matricola Quello che sono Usiamo quelli Così lo risolvo O direttamente tu Rich action Saresti alla fine Non mi ricordo chi Fabio Se vuoi mandarmi direttamente i tuoi Così lo faccio per il tuo caso Dato che me l'hai chiesto tu Tanto verrà diverso in base ai numeri di matricola Ok In ogni caso andiamo a fare Intanto vado a disegnare E' un T punto insert Ok Quindi la insert La insert è un metodo che sta qua Ed è questo Ok E' un T punto insert Dove T è un tipo tree Quindi andiamo dentro A tree insert E' un tipo tree apparente Il tipo reale leaf Ok Quindi andiamo in tree Nell'abstract class tree abbiamo la insert Quella Il tipo reale leaf Quindi andiamo a fare la insert di leaf Quindi intanto ci sarà una Sullo stack Ci sarà da disegnare Il Leaf insert Lo chiamiamo Potete anche chiamarlo solo insert Basta che sappiate che sia quello di leaf Ok E andiamo a disegnare Andiamo qua A inserire quello che è Ciò che è stato passato E quindi qua cosa chiede Chiede un int n Ok Quindi abbiamo un Abbiamo un n Uguale E adesso vediamo un attimo i numeri Sono M1 uguale a 3 M2 uguale a 1 M3 uguale a 2 Buono Non si capisce un cazzo Tutti gli stessi numeri Quindi andiamo su insert di leaf Perché t punta ad un leaf Esatto Tu vai a fare Qua Scusate Qua Voi a vedere Qua è stato dichiarato un 3t E Di tipo Cioè Un t di tipo 3 Ma il tipo reale è leaf Quindi tu cosa vai a fare Vai a fare T punto insert La insert è di 3 ovviamente Però dobbiamo farla sul tipo reale Il tipo reale cos'è? Il tipo reale è leaf Quindi andiamo a fare questa insert qua Ok A questo punto abbiamo 3 punto Quindi abbiamo una insert n Dove n sarà m3 Quindi abbiamo m3 uguale a 2 Ok Sì Uguale a 2 Vabbè fa schifo ma non importa C'è altro da disegnare dentro allo stack? No Perché non ci sono altre variabili Né dichiarate né passate Ok Quindi qua abbiamo finito Diciamo Non c'è più niente Quindi è questo Qua in mezzo in realtà non ci dovrebbe essere spazio Nel senso dovrebbe essere subito sopra L'ho lasciato per sbaglio Non fateci caso Nel senso che Vabbè non importa Poi lo faccio vedere dopo al massimo Comunque Vanno fatti uno sopra l'altro Facciamo le cose fatte bene Facciamo finta che sia così grosso questo Oppure lo spostiamo Che bello paint Una figata Vabbè Ci siamo capiti comunque So che è però Almeno facciamo le cose fatte bene Che sennò la gente magari non capisce Preferisco che si capisca tutto Ok Ok Quindi noi siamo in questa situazione qua Ci dovrebbe essere anche un dis Che parte dal metodo insert È bravo Me lo sono scordato È fatto bene a dirmelo Che a me se non me lo ricordo più Ok Sì ci va anche un dis Giusto Un dis Che parte da qui In realtà è sotto Perché il dis è il primo puntatore Ma non importa Ok In realtà importa Dopo lo sposto al massimo Ok che punta All'instance of leaf Perché funziona così Funziona che Dato che siamo Dentro a metodi Che non sono metodi Statici Ma sono Scusate Non sono dentro Sì Non sono dentro diciamo Al main A un metodo statico Non sono metodi statici Quindi hanno un dis Ok In questo caso hanno un dis E Soprattutto quando Comunque siete all'interno di una classe Che avete istanziato Una classe reale Ok Sicuramente c'è un dis Che punta Del metodo In questo caso qua Noi sappiamo che la insert Era quella di leaf Ma di che leaf Di questo leaf qua Ok Di questo leaf Di t Di t Quindi t era questo new leaf Quindi t puntava a questo new leaf Bene Allora anche la insert Che è stata chiamata di t Ha un dis Che punta a questo leaf Ok Anche perché Qua dentro Me lo sarei ricordato probabilmente Leggendo qua poi Di mettere il dis Comunque Qua dentro cosa viene fatto? Un return New branch N dis 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 viene usato come fosse una variabile Ok In realtà è semplicemente Il puntatore A se stesso All'oggetto se stesso Quindi al leaf Al new leaf Che sarebbe questo Ok Quindi adesso Vediamo cosa succede Succede che Viene fatto un return di new branch Con n Come elemento Probabilmente chiede Elemento Left e right appunto N come elemento Dis Cioè se stesso Cioè questo leaf Cioè quello che punta dis Questo qui Come left E anche come right Quindi andiamo intanto A creare questa istanza nuova Quindi Viene creata un'istanza Un branch Viene creato Ok Branch Ecco l'A no? Voglio far figura Ok Ecco l'A Branch Con elm Elm Left Right Ok Potete disegnarlo come volete Magari Magari è più chiaro Disegnato in modo diverso Un secondo Facciamolo bene Magari è più chiaro Disegnato così Così Oddio E così E così Ok Questo è left Questo è right E questo è Elm E questo è il branch Ok L'elemento abbiamo detto essere L'n Che è stato passato Quindi m3a Quindi noi sappiamo che l'elemento m3 è 2 N è uguale a 2 Quindi l'elemento del nuovo branch sarà 2 E left Right Devono andare a puntare a dis dis Dove dis E l'if Ed è esattamente l'if che punta t e che punta dis Ok Quindi questi puntatori Faccio 1 E 2 Ok Questa è la situazione A questo punto cosa succede? Succede che viene fatto il return No? Quindi ci sblocchiamo da questo new branch Bla 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 Viene fatto il return di questa cosa qua che è stata creata Ok Cioè il branch E viene assegnato a t Quindi t Allora Intanto viene fatto il return Quindi questo metodo Sparisce diciamo Viene cancellato Dallo stack Ok Quindi viene eliminato il metodo Bam Sparisce Tac 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 Se riesco a farlo sparire Fatto bene Perfetto E viene E viene Riturnato Che cosa? Viene ritornato il branch che è stato creato Quindi t Viene assegnato Ciò che è stato ritornato Dalla funzione insert Ok E quindi viene ritornato Questo Quindi t punterà a questo A questo punto Ok A questo intendo tutto Va bene? Ci siamo fin qua? Questo dovrebbe essere il primo step Cioè noi siamo fermi qua Prima di iniziare il secondo Questo è il primo step Ok Perfetto Quindi c'è questa istanza di leaf Che viene puntata da left e right E per questo rimane viva nel leap Diciamo C'è un branch con elemento 2 Quindi il nostro albero è solo composto da 2 left e right E abbiamo t dal main che punta al nuovo branch che è stato ritornato Arx Raga non lo calcolate tanto Punta al nulla Può puntare di qua Può puntare di qua Non lo so Non ci è mai stato spiegato Non è mai stato detto come lo vogliono Cioè più o meno questo Va bene? Ok Ora Attento Mancelliamo questa cosa che mi urta Perfetto Andiamo a eseguire la prossima istruzione che è questa Ok Check point 1 Non mi ricordo dov'è Ah è sul primo run number Va bene Ah scusate mi soffro un secondo il naso Che se no muoio Ho spaccato la tastiera Ho spaccato la tastiera Ok ci sono Quindi Andiamo a fare questa istruzione Questa istruzione è di nuovo un assegnamento a t Ma prima dobbiamo risolvere quello che è questo Quindi t punto insert m2 Andiamo a vedere intanto la insert di che tipologia sarà Beh t adesso non punta più all'if T sappiamo che punta un branch Quindi la insert è di tree e va bene Perché è un tipo tree apparente Ma il tipo reale sarà il nuovo branch che è stato creato Quindi andiamo dentro branch e cerchiamo la insert che è questa Ok Quindi andiamo a creare Qua abbiamo No Abbiamo This Che punta qui Ok Come t D'altronde E abbiamo un n No Perché Insert ha un int n che viene passato Quindi abbiamo un n Che è uguale a m2 E' uguale a m2 Quindi 1 No Viene passato m2 Quindi Insert int n dove n è uguale a m2 Che è stato passato Ci siamo E questo dovrebbe essere tutto Perché qua non viene creato nessuna nuova variabile né niente Quindi questo è tutto Quindi intanto andiamo a scrivere qua Che questa qua è un branch.insert Per chiarezza lo scrivo Non è detto Potete scrivere anche solo insert Penso all'esame Però Ok Questo è il branch.insert A questo punto cosa succede? Succede che dobbiamo andare a vedere cosa succede Cosa fa la insert di branch Ovvero se n è minore dell'elemento attuale Dove elem che cosa è raga? E dis.elem Quindi questo Ok Se n è minore dell'elemento attuale Allora left uguale a left.insert n Allora bene Quindi Dis.elem 1 scusate E minore di dis.elem Sì 1 è minore di 2 Ok Quindi viene fa... M1 è 3 bro Non ho capito Cosa c'entra che M1 è 3? Il M1 viene inserito per ultimo Quindi non mi interessa che tra Ok Comunque andiamo avanti Dicevo Dis.elem Punta a questo branch Quindi l'elemento è 2 Ok? 1 è minore di 2 Si Quindi viene... Entriamo dentro questo if Che cosa fa? Fa left uguale a left.insert n Ok? Quindi viene chiamato il sinistro Il dis.left Ok? Quindi questo Cosa punta? Punta all'istanza di leaf Quindi verrà chiamato un leaf, diciamo, punto insert Quindi questo Quindi intanto andiamo a crearlo Nello stack Abbiamo un dis Dis E abbiamo un n Come sappiamo già Che è uguale sempre a 1 Perché è stato passato sempre lo stesso n Ok? E sappiamo che E' un leaf Punto insert Ok? E sappiamo che dis Adesso questi incroci qua Quando cancellerò ci metterò 65 anni Punta qui Ok? E' stato... Cioè è chiaro perché viene chiamato il leaf punto insert? Guarda ma sospeso del sasso Ma hai fatto bene Luca rompe solo le balle Ok? Quindi viene chiamato il leaf punto insert perché? Perché dentro al metodo insert di branch E' stato chiamato left punto insert Il left di branch è quest'istanza di leaf Quindi viene chiamato il leaf punto insert Ok? A questo punto quindi è questo E' questo metodo qua Quindi abbiamo il dis che punta qui e bla 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 A questo punto cosa succede? Succede infatti il return di new branch and it is this Quindi viene creato un nuovo branch Andiamo a farlo Cazzo allora non c'ho spazio qua Era più comodo Vabbè lo faccio lo stesso qui non mi interessa Cercherò di fare in modo che si capisca il più possibile Scusate che su paint non ho preso il master Non ho preso niente su paint Non so se sono scarso Ok viene inserito N quindi 1 Abbiamo quindi Posso evitare di scrivere elem left e right Penso che sia chiaro che questo sia il left Questo sia il right Questo sia l'elemento Lo sto a riscrivere lo lascio solo per questo E abbiamo Dove dis Siamo dentro un metodo di leaf Quindi il dis è questa istanza di leaf Quindi abbiamo Il left che punta Forse riesco a farlo meglio così Non so come si No scherzavo Facciamo finta che io non l'abbia fatta questa cosa Left e right Ok? Che punteranno qui di questo nuovo branch Nel frattempo questo branch non Non è puntato da niente Punta solo Ma Questo return Questo return Scusate Viene fatto di questo nuovo branch Viene fatto qui Perché noi eravamo fermi a questo insert Ok? Quindi al left Ok? Al left di questo branch Su cui noi eravamo fermi nel return A questo Viene assegnato questo Ok? Di conseguenza Sparisce Questa Questa Ok? Ok? Sono precisissimo E Va a puntare qua Va bene? Fin qua ci siamo? Dovremmo esserci Questo leaf insert ovviamente viene cancellato perché ha fatto il suo return Ok? Quindi sparisce Quindi sparisce Ho anche il puntatore Mannaggia Che brutta cosa Questo è perché vorrei avere anch'io Stefano un bel Surface Surface Vado a usare la penna Ok? Dicevamo Noi siamo fermi qua dentro al branch.insert Abbiamo fatto Left uguale a left.insert n È stato ritornato il branch Quindi questo sarà il branch Diciamo Ok? Quindi ci sarà left uguale new branch n this this Quindi questo Ok? Quindi il left di this Scusate Il left di this Punterà al nuovo branch che è stato creato Ok? Ci siamo A questo punto cosa succede? Succede che l'else if non viene fatto perché siamo entrati nell'if Ok? Quest'istruzione l'abbiamo terminata L'else if non viene fatto E abbiamo un return this Di conseguenza viene ritornato questo a t Ok? Quindi questo viene cancellato Adesso spiego meglio se non si è capito Questo frame viene cancellato perché ha fatto il suo return E fin qua non ci piove spero E' cancellato E viene cancellata anche la freccia Ehm... Gomma Vorrei avere uno strumento che dice Cancella la freccia numero 5 E me la cancella tutta Da solo Ok? Ci siamo? A questo punto T A cosa punterà? Beh T punta sempre a questo Ok? Perché è stato fatto un return this Return this Dove this è questo branch qua This di prima che adesso è cancellato Puntava qui Quindi T continua a puntare qui Quindi noi avremo il nostro nuovo albero nel leap Va bene? Però T continua a puntare al primo branch Il primo branch A left che punta a 1 Ovviamente ricordatevi raga Se avete studiato la teoria Che gli alberi Non lo scrivo Gli alberi binari Hanno In cima all'elemento radice Che è il primo elemento Diciamo che viene inserito Ok? Il primo elemento che viene inserito Rimarrà sempre quello Ok? Di norma funziona così Infatti la insert fa sempre return this Ok? Ogni volta che verrà fatto un inserimento L'albero si aggiorna Ma T continuerà a puntare al primo elemento Che è stato inserito Va bene? A questo punto da qui A sinistra No spero non ho capito Perché non viene aggiornato il puntatore del main E te lo ripeto allora Facciamo così Ehm Noi abbiamo fatto Ripartendo da capo no? Noi abbiamo fatto questa insert qua Ok? Quindi siamo entrati In T.InsertM2 Dove T puntava sempre qui E fin qua ci siamo Cosa è successo? E' successo che noi abbiamo fatto questo E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto N minore di LMC Left Abbiamo segnato a left Il left.InsertN Ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo fatto Abbiamo chiamato un leaf.InsertN Quindi è stato creato un nuovo branch Con come elemento 1 E come this e this Cioè come left e right Leaf Ci siamo? Questo new branch è stato ritornato Non al nostro T Ma al nostro left Di insert Dove la insert era T.Insert Dove T puntava a questo Ok? Quindi il suo left Ok? Qui abbiamo ritornato il nuovo branch A questo punto Nel codice Leggendo solo il codice Questo l'abbiamo fatto Abbiamo segnato a left Il nuovo branch Che è stato creato da questa funzione qua Che è questo Ok? A questo punto saltiamo l'elsif E viene ritornato this Ma dove puntava il this del branch.Insert Di questo branch.Insert Adesso non vorrei fare ctrl z Per evitare di cancellare di nuovo la freccia Ma questo branch.Insert Aveva un this qua Aveva questo this Che puntava Qua Ok? Il primo Il primo Metodo che abbiamo chiamato Aveva un this che puntava qui Quindi quando viene ritornato this Vuol dire ritorno a me stesso Cioè a se stesso E quindi se stesso viene ritornato anche qui Quindi qua è come se gli dicesse Ripunta a me Ok? Per questo non viene aggiornato Ci sei? Hai capito il discorso? Ok A questo punto cosa succede? Succede che Abbiamo finito questa istruzione Siamo a questo punto qui Ora Abbiamo un t uguale t.InsertM1 Quindi sappiamo che M1 uguale a 3 Andiamo a farlo Andiamo a fare Qua Per fortuna uguale a 3 Così evito troppi stack Se no divento scemo Sappiamo che ne abbiamo due Beh Sappiamo già come è fatto No? Qua abbiamo dis Qua abbiamo n Che è uguale a 3 In questo caso Qua abbiamo il dis che punta al branch Perché ha questo branch? Perché t punta a questo branch? Questo è chiaro spero Questo è chiaro spero Se no poi vi mettete a puntare a caso Non sapete neanche più voi N uguale a 3 Sappiamo che questo è un branch.Insert Ok? A questo punto Bene Allora andiamo a fare il branch.Insert Quindi questo insert qua Abbiamo un int n L'abbiamo scritto Un uguale a 3 E il dis Con gli elem left right A questo punto N è minore di elem Beh 3 non è minore di 2 Quindi no Quindi non entriamo nell'if Andiamo a vedere nel sif Il sif N è maggiore di elem Beh si è N è maggiore di elem 3 è maggiore di 2 Strettamente maggiore di 2 Si Bene allora Right uguale a right.Insert n Ok? Quindi cosa succede? Succede che andiamo a fare il right.Insert Ma right cosa punta? Punta un leaf Quindi la nostra insert Sarà una leaf.Insert Ok? Ci siete? È uguale identico a prima Solo che al posto di andare a sinistra Siamo andati a destra E succederà la stessa identica cosa Ovviamente Ok? Adesso dopo magari vi faccio un esempio Nel caso in cui fossimo andati a sinistra Ok? Che magari rende più chiaro ancora Il concetto di come funzioni Abbiamo dis Abbiamo N che è uguale a 3 Abbiamo il dis che punta Ragazzo Si lo faccio dai Il dis che punta all'instance of leaf Ok? Abbiamo N uguale a 3 A questo punto cosa succede? Succede che viene fatto questo Quindi Nuovo branch con N Dis Per fortuna posso farlo a destra Così ho spazio In realtà potete farli un po' dove volete Nel leap Però è per comodità Ovviamente se ve li mettete dal lato giusto Vi lasciate lo spazio giusto Ok? Non scrivo O meglio dal vivo in realtà Comunque torno su Scusate su bs Se no mi perdo le domande Ok? Diciamo Viene creato quindi un nuovo branch Magari lo scrivo che questi qua sono branch Nel caso Non si fosse capito Ok? Un nuovo branch Come abbiamo letto Dove è adesso? Qua Come abbiamo letto qui Viene creato un nuovo branch Con N che è uguale a 3 Dis e dis Ma dis che cosa sono? Sono due puntatori Cioè sono il dis Di leaf.insert Quindi l'instance of leaf Quindi left e right di 3 Punteranno all'instance of leaf Quindi 1 E 2 E quindi Tac Tac Facciamo anche le freccine Ehm A questo punto cosa succede? Beh succede che Tornando in D Questo Questo return l'abbiamo fatto Ma noi dove eravamo fermi? Beh eravamo fermi Dentro a questo metodo qua Ok? Quindi questo qua ha fatto il suo return E viene eliminato Sempre una rottura Ma se io No Perché se faccio ctrl z Mi cancella tutto Mannaggia Cancello Oh no Tac 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 Ok Ok Quindi Noi eravamo fermi in quel metodo D Che ha fatto il suo return Di conseguenza Eravamo fermi nel metodo Branch.insert Qua Eravamo fermi qua Al write.insertn Ok? Beh Questo cosa ha ritornato? Ha ritornato il nuovo branch con 3 Quindi il write Di 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 this Ok? Avrà assegnato Un puntatore Al nuovo branch Quindi Questo Invece di puntare All'if Sì Qua non ce la farò mai Infatti lo lascerò lì così Vabbè lo riscrivo Ok? Invece di puntare all'if Punterà A 3 Ok? Punterà qui A questo punto Viene fatto return this Di nuovo Questo return this È permanente Per questo dico che t Punterà sempre al primo elemento Di cui è stata fatta la insert Va bene? Perché l'unico momento in cui viene ritornato effettivamente il nuovo branch che è stato costruito È quando t È un leaf Quindi solo nel primo caso Per questo t punterà sempre al primo Qua viene fatto di nuovo return this Ma this Sappiamo che punta qua Ok? Questo this Punta qua Quindi t punterà sempre qui Ok? Quindi andiamo a eliminare questo che ha fatto il suo return Cancelliamo anche qua Cancelliamo la freccia Cancelliamo la freccia Ok? E ci siamo Ok? A questo punto siamo fermi in questa situazione qua È stato costruito il nostro albero Ok? Adesso apro un nuovo foglio di paint E faccio vedere anche cosa sarebbe successo se fosse andato a sinistra Vedo se riesco a copiarmi questo Questo pezzo qua E faccio l'insert a sinistra Va bene? Così si capisce Metto magari al posto che 3-0 Così entriamo nel caso in cui andiamo a sinistra Vi faccio vedere Però è pressoché identico il procedimento Va bene? Quindi Finiamo un attimo l'esercizio Poi vi faccio vedere Abbiamo fatto queste istruzioni qua Quindi abbiamo fatto l'insert m1 Ok? Abbiamo fatto l'insert m1 Quindi partiamo con t.renumber 0 Questo penso sia uno 0 Sì Quindi viene chiamato t.renumber E passato un valore intero 0 T che cos'è intanto? Beh t è un branch Quindi il renumber sarà renumber di branch Quindi andremo a fare un branch.renumber Ok? Ci siamo? Vabbè scrivo ren Penso si capisca che è renumber E abbiamo Beh Sempre un dis Perché siamo in un metodo del branch Quindi abbiamo un dis E poi ho letto che abbiamo un n Adesso ve lo faccio vedere Abbiamo dis Oh mio dio Dis N uguale a 0 Non è un insert È un renumber Adesso vediamo Pam Qua Ok? Adesso lo vediamo Abbiamo renumber Che ha int n Ok? E deve ritornare un intero Un metodo che ritorna un intero Ok? Quindi Viene passato n E il dis È esattamente Il branch che punta t Ok? E fin qua ci siamo A questo punto cosa succede? Questa è la prima volta che lo faccio Quindi se ci metto un attimo È per questo Adesso cosa succede? Siamo fermi qua Vediamo cosa fa il codice Il codice dice Questo elemento È uguale a sinistra punto renumber n Ok? Quindi Viene chiamato il sinistro Intanto dobbiamo fare questo E poi quello che ci ritornerà questo metodo qua Verrà assegnato a elem Ok? Quindi iniziamo a fare questo Quindi left punto renumber n Beh il left di questo È un branch È un branch con uno Ok? Quindi ci sarà un altro branch punto renumber Perché abbiamo chiamato left punto renumber Ma il left è un branch Quindi un altro branch punto ren Qua ovviamente è questo È suo Ecco Qua abbiamo un dis E abbiamo l'n Che tanto è sempre uguale Il branch punto renumber Avrà sempre gli stessi elementi, no? Dis Abbiamo n sempre uguale a 0 Ok? È stato passato sempre 0 E abbiamo dis che punta qui E siamo andati a left Left è questo E quindi questo branch qui A questo punto cosa succede? Succede che Ritorniamo dentro Nell'altro renumber Siamo fermi qua Stiamo aspettando questo output qua Ok? In questo invece dobbiamo ricominciare Quindi diselem uguale a left punto renumber di nuovo Quindi aspettiamo un attimo per l'assegnazione Non andiamo a farlo ovviamente Aspettiamo che ci ritorni il left punto renumber n A questo punto cosa succede? Succede che Ehm Chiamiamo left punto renumber di chi? Di questo Ma il left di questo è un instance of leaf Quindi Il left sarà un leaf punto renumber Quindi questo Va bene? E qua c'è il checkpoint 1 Quindi andiamo intanto a creare ovviamente il leaf punto renumber Ok? E abbiamo un dis Abbiamo un n Abbiamo dis e n uguale a 0 E dis che punta Non si capisce più niente Qua Ok? Qua in questo momento qui Ok? Noi siamo bloccati Siamo fermi qua Non è ancora stato fatto return Checkpoint 1 Quindi questo È il Checkpoint 1 Lo salvo così poi lo posso dare Checkpoint 1 Ehm Adesso lo lascio su documenti Poi vediamo Come immagine Si Checkpoint 1 Non so che cosa sia Abbiamo detto che questo è dicembre.pdf Così almeno ce l'abbiamo A questo punto Siamo fermi qua Allora Return Fatemi cancellare solo checkpoint 1 Che poi magari arriva qualcuno E non capisce perché c'è scritto Andiamo avanti fino al checkpoint 2 Adesso faremo un nuovo salvataggio Così siamo a posto Ora Ehm Distance of leaf Branch bla 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 Leaf.renumber Ok? Quindi cosa viene Cosa Cosa viene fatto da Leaf.renumber Viene ritornato l'intero an Quindi viene ritornato 0 Quindi l'elemento Di questo branch Che è quello che ha richiamato Leaf.renumber L'elemento di questo branch Sarà uguale a 0 Quindi Leaf.renumber Ha fatto il suo Viene eliminato Viene eliminato Bam 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 Ci metterò sette anni e mezzo Ma ce la posso fare Lo so che è noioso Immaginate per me Una Oh no Quante ce n'è? Vabbè Fa niente Facciamo così poi E Ci dovremmo essere Uno E no Facciamolo partire da qua Così non mi rompe Uno Due E tre Ok A questo punto Ma chi è che aspettava Return? Era questo branch Dove lo stava aspettando Return? Stava aspettando DisElem uguale Ok? Eravamo fermi Qui DisElem uguale Left.renumber Il suo left Bam leaf Ci è ritornato 0 Quindi Elem sarà uguale a 0 Quindi viene cancellato Uno E viene inserito 0 Ok? A questo punto Non abbiamo finito Perché qua viene ritornato Su Ok? Il right.renumber Di DisElem Più 1 Quindi dopo che L'elemento è stato Dopo che All'elemento è stato assegnato Left.renumber N Viene ritornato Un intero Che otterremo Da right.renumber DisElem Più 1 Adesso senza che sto a disegnare Di nuovo questa roba qua Perché penso sia chiaro Il right E' un leaf Quindi qua ci sarà disegnato Un leaf.ren Con dis Che punta leaf N N uguale a 0 Più 1 Quindi 1 Ok? Il leaf abbiamo detto che ci ritorna N Quindi ci ritornerà 1 Quindi qua verrà ritornato 1 E' chiaro? O devo disegnarlo? Però penso che si possa capire Perché prima abbiamo fatto la stessa identica cosa Cioè Prima era disegnata la stessa identica cosa Che ho detto adesso Però al posto di N uguale a 0 C'è scritto N uguale a 1 In questo caso Ok? Se non è chiaro qualcuno lo scriva Se è chiaro non state a scriverlo in 11 Che non serve Se qualcuno non ha capito perché c'è return 1 Lo Lo faccio vedere Comunque Quindi qua viene fatto return di 1 Ok? Allora Noi sappiamo che questo metodo sta ritornando ciò che deve ritornare Diciamo Ok? Di conseguenza Andiamo a cancellarlo Perché ha fatto il suo return Quindi ha finito Non sta più nello stack Andiamo a cancellare anche questo Ta 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 Ok Track Track Ok E Questo return A chi viene fatto però? Beh chi stava aspettando? Stava aspettando questo branch run Che puntava qui Ma stava aspettando Qui Ok? Io Dovete ricordarvele queste cose Segnatevelo Dove siete fermi nel codice Però stavamo aspettando questo Ok? Perché eravamo Sul left punto renumber Eravamo qua No? Questo ci ha ritornato 1 Ma 1 Adesso deve essere assegnato all'elemento Quindi 2 Diventerà 1 Ok? Non è finita qui Perché Questo Deve ancora fare il right punto renumber Di zelem più 1 Ok? Quindi adesso cosa succede? Viene chiamato Right punto renumber di zelem più 1 Dove di zelem sappiamo che adesso è 1 Ok? Più 1 sono 2 Ok? Quindi n sarà uguale a 2 Ma il right renumber è un renumber di branch Quindi Cioè Questo rimane attivo Perché non ha fatto ancora il suo return Qua ci sarà un branch Punto ren E avremo E avremo 1 2 Dis N abbiamo detto uguale a 2 1 più 1 Ok? E dis Facciamo un trick E dis che punta qui Va bene? Ci siamo Ci siamo Ora Cosa succede? Succede che abbiamo n uguale a 2 Quindi Siamo in un renumber di branch Ripartiamo dall'inizio Sull'altro siamo fermi qua Stiamo aspettando di ritornare un intero Che ci verrà passato Dalla funzione Ok? Siamo dentro al renumber Di questo branch qua Ora Nel renumber viene fatto Diselum uguale a left Punto renumber n Quindi Aridai Andiamo sul renumber del leaf Il leaf ci ritornerà semplicemente n Che verrà assegnato all'elemento N abbiamo detto che qua Quando è stato passato È uguale a 2 Ok? N è uguale a 2 Quindi qua ci sarà Leaf.ren Facciamo così Non disegno solo il puntatore Che è la cosa più noiosa Però questo qua posso scrivervelo Ehm Ok? Infatti Qua c'è dis Qua c'è n Uguale a 2 Ok? Dis Punterà qua Ok? Perché è un leaf.ren Sarà questo leaf qua Cosa viene fatto? Return n N uguale a 2 Quindi viene ritornato 2 A cosa? Dis.helm Uguale a left.renumber n Di chi? Di questo Quindi questo elemento Sarà 2 Ok? Ok? Ora Ovviamente lui ha fatto il suo return Quindi viene cancellato Cosa sta succedendo? Ok? Viene cancellato Ok? E Qua è stato ritornato 2 Quindi abbiamo finito questa istruzione Qua c'è il return Write.renumber Dis.helm Più 1 Quindi verrà passato Qua ci sarà un altro branch Eh un altro Scusate Un altro stack Di Leaf.renumber Ok? Qua ci sarà il nuovo Leaf.ren Perché? Perché write È sempre leaf Ok? Come prima Quindi leaf.ren Ci sarà il dis Che punterà il leaf E ci sarà n Uguale a 2 più 1 Che è 3 Ok? A questo punto Questo cosa fa? Beh ritorna solo 3 Quindi Cosa succede? Succede che da qui Viene passato 3 a questo Questo qua Ok? Viene cancellato Perché fa il suo return Uguale Return di 3 Ok? Farà un return di 3 Quindi cosa succede? Succede che A questa funzione qua A branch.renumber Di questo qui Verrà ritornato 3 Ok? Non state a cercare di capire Dove va a finire questo 3 Perché non andrà a finire Da nessuna parte Ve lo spoilerò Quindi viene cancellato Perché lui fa il suo return di 3 Se non è chiaro Ditemelo che siamo qua apposta Però penso che sia chiaro Il perché 3 Abbiamo fatto il write Write di Elm più 1 Elm è uguale a 2 Quindi è 3 Il write punta l'if Quindi l'if Cosa fa? Ritorna semplicemente n Quindi ritorna 3 Quindi questo branch Ha ritornato 3 A chi? A questo Ok? Ma questo qui dove eravamo fermi? Beh eravamo fermi A return write Write.renumber Blah 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 Quindi qua è stato Passato 3 A posto di questo ci sarà scritto Diciamo 3 Ok? Quindi return 3 Quindi anche lui termina Fa il suo return di 3 Quindi andiamo a cancellare Perché anche lui ha finito Di fare il suo Lavoro Viene cancellato anche questo Ok? Ma sto 3 A chi viene ritornato? Beh nessuno Perché qua nessuno Stava aspettando Che venisse ritornato sto 3 Quindi sto 3 si perde Diciamo Non viene memorizzato Da nessuna parte Ok? E siamo arrivati A checkpoint 2 Quindi questo è il checkpoint 2 Va bene? E abbiamo finito Ci siamo? E' chiaro a tutti Come siamo arrivati A questa situazione qua Grazie Meno male Mi soffio il naso Arrivo Che vi faccio vedere Solo la insert Arrivo Nel frattempo è arrivato Un messaggio su telegram Quando finisci puoi far questi? Va bene E' un solo esercizio Amine Questo Cioè sono 3 Java ma di un solo esercizio Penso di si List no domain Quindi penso di si Comunque E' un secondo Che faccio ancora una cosa Volevo solo far vedere Che qualcuno Aveva chiesto di farlo La doppia insert Da un lato Ok? Allora noi facciamo finta Di essere A questo punto Adesso non lo salverò Poi questo Semplicemente Facciamo finta Che al posto Che l'ultimo numero Essere 3 Mettiamo caso Che fosse stato 0 Andiamo a rim... Oddio Niente Non ce la farò Farlo bello Sì invece Quindi mettiamo caso Che siamo nello stato In cui eravamo prima Quindi qua 1 Qua Scusate Qua 2 Qua 1 E qua Non c'è Qua non c'entra più niente Con l'esercizio Non è il checkpoint 2 Non è niente questo Questo qua è la insert Due volte da un lato Se c'era qualcuno Che voleva vederla Quindi la faccio Allora Noi siamo A questo punto qua Ok? Facciamo finta Di essere in questa situazione qui Dove abbiamo già Ha eseguito Queste due istruzioni qua E stiamo eseguendo la terza Va bene? La terza è una insert di M1 Ma in questo caso M1 è 0 Ok? Facciamo così Allora cosa succede? Beh succede che Abbiamo Una insert su T Dove T punta a un branch Quindi sarà una branch insert Poi adesso vado avanti con gli esercizi Eh? Mi riesco solo a rifare qua Questa insert qua Che così si capisca tutto Così avete tutti i casi 1 e 2 La insert come sappiamo ha un dis E un n Dove n in questo caso è uguale a 0 Ok? Quindi Avremo un dis che punta a questo branch qui Ora viene fatta la insert passando a 0 Ok? Quindi cosa succede? Succede che entriamo qua Insert dove n è uguale a 0 N è minore dell'elemento? Beh sì N è minore di 0 è minore di 2 Sì Ok? Quindi viene fatto left.insert Ok? E viene passato n di nuovo Cosa vuol dire questo? Vuol dire che viene fatta una insert su un altro branch Quindi di nuovo branch Punto insert Ok? Dove abbiamo n Uguale a 0 E dis Dis Che punta qua N Uguale a 0 Abbiamo detto E ci siamo Ok? Siamo in questa situazione qui E qua stiamo Qua stiamo aspettando questo return qua A lui Ok? A lui stiamo aspettando left uguale a cosa? Beh uguale a left.insert n N uguale a 0 Quindi siamo qua Ok? Adesso siamo qui Siamo in questo branch.insert Dove dis punta a questo E 0 E 0 è il valore che è stato passato Ora 0 È maggiore di Ehm 0 È Com'è che chiede? È minore di 1? Beh sì 0 è minore di 1 Quindi viene fatto di nuovo Left uguale a left.insert n Ok? Il left di 1 È un leaf Ok? Quindi cosa succede? Beh succede semplicemente Che andiamo in leaf.insert Chiunque volesse vederlo Se c'è qualcosa di non chiaro Lo dica che lo Lo rifaccio Lo ripeto Ovviamente siamo Così Ok? Dove abbiamo un dis Che punta al leaf Adesso non voglio di fare la freccia Però penso che Cioè qua ci sarebbe la freccia che va qui Va bene? Però poi ci metto ora a cancellare E n È uguale a 0 Ok? Cosa succede? Beh succede che viene ritornato un nuovo branch Con n come valore Dis e dis Come left e right Quindi siamo qui Abbiamo detto Viene creato un nuovo branch Lo creo qua perché so già come va a finire Ok? Un nuovo branch Con Valore 0 Questo branch E questo nuovo branch Viene ritornato a chi? Beh Alla insert Di Questo Alla left Della insert Di quello lì Ok? Alla left Left Scusate Ok? Quindi questo qua Diventerà questo branch C'è ne dis dis Quindi al left Di questo Assegniamo questo Quindi viene cancellato Questo Ok? E viene assegnato questo Ci siamo? Ok E fin qua ci dovremmo essere A questo punto Allora Questo qua ovviamente si cancella Perché ha fatto il suo Questo lift Punto insert Ok? Adesso siamo a branch Punto insert Questo Ma dove siamo arrivati? Beh Abbiamo fatto questo Non facciamo l'else if Ok? Perché abbiamo fatto l'if Return this Quindi viene semplicemente Ritornato se stesso A chi l'aveva chiamato Ok? Quindi questo viene cancellato Bam 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 Il meglio possibile Ok Questo viene cancellato Perché il metodo Ha fatto un return Ma cosa ha ritornato? Beh ha ritornato this Non ha ritornato Il branch inserito Ha ritornato se stesso Ok? Cosa vuol dire questo? Qua ovviamente c'è questo qua Che non ho ridisegnato prima Scusate me lo sono perso per strada Ok? Cosa ha ritornato questo? Questo qua ha ritornato se stesso A chi l'aveva chiamato Chi l'aveva chiamato Dove era fermo? Questo metodo qua Dove era fermo? Era fermo qui Quindi A left Di questo Viene assegnato questo Beh c'è già Quindi non sto a cancellare Li file Però viene riassegnato questo Bene Quindi abbiamo finito Anche questa istruzione qua Di questo branch qui E quindi viene fatto Che cosa? Saltato questo Viene fatto return this Return this Viene fatto at Quindi viene ritornato Se stesso at E quindi si cancella Questo metodo qua Che ha fatto il suo return Ok? Ce la farò Ok? E questo è lo stato finale Va bene? Questo è quello che è successo Dopo quella insert Eh scusatemi Qua mi sono scorrato Di disegnare Questo E questo Che puntano ovviamente All'istanza di leaf Perché? Perché è stato fatto Quest'istruzione qua Va bene? Mi sono stato scorrato Di disegnare i puntatori Quindi questa è la situazione finale Va bene? È chiaro come viene fatta La insert Due volte a sinistra Cioè È successo che Eravamo qua L'elemento era minore Il numero era minore Dell'elemento si Bene allora andiamo a fare La insert di questo Il numero era minore Dell'elemento si Allora andiamo a fare La insert di quello Che c'è qua a sinistra Questo qua puntava un leaf Il leaf cosa fa? Ritorna un nuovo branch Con come elemento Il numero E come left e right This e this Quindi essendo un leaf Ritorna una distanza Di sto leaf Viene creato un nuovo branch Con zero Che viene assegnato A left Di quello sopra Ok? Questo qua Ritorna semplicemente A se stesso Perché alla fine Lui ha fatto questa Poi salta a questo E ritorna a se stesso Quindi a quello sopra Bam Come se tornassimo sopra Nell'altro branch Ok? Eravamo fermi qua Qua gli è stato ritornato Che cosa? Se stesso Uno Il branch con uno Quindi salta a questo E viene fatto Il nuovo return disk Quindi anche questo qua Ritorna a se stesso A t E questa è la situazione finale Quindi Se volete Più semplicemente Ok? Quando viene fatta la insert Si va fino a fondo albero Diciamo Cioè fino a dove Il puntatore Dove deve essere inserito Punta leaf E viene inserito lì Il nuovo branch Ok? Non viene modificato Tanto l'albero Viene inserito Diciamo al fondo Sempre Circa Perché Il test è sempre questo Se Non capisco Cosa sono questi tasti Che compaiono qua sopra Vabbè Se Il numero che viene inserito È maggiore Del nodo su cui siamo Va alla sua destra Se è minore Va alla sua sinistra È semplicemente questo Quindi mettendo a caso Per esempio Che qua ci fosse stato 3 Ok? Adesso faccio un ultimo esempio Se qua ci fosse stato 3 E qua c'è 1 E fosse stato inserito 2 Cosa succedeva? Beh semplicemente Che al posto di essere qua Era Questo puntatore Che puntava il nuovo branch Con 2 Ok? Perché Andava a sinistra di 3 Perché è più piccolo Di 3 è 2 No? Però è più grande di 1 Va bene? Quindi Al posto di essere questo Che andava a puntare Era lui Veniva fatto Nel sif E quindi succedeva Questa cosa qua Succedeva questa cosa qua Ok? Così E così Va bene? Perché Vabbè ovviamente Questo qua l'avrei disegnato Magari qui o qui Perché si capisse meglio Però Il 3 Lo manda a sinistra Perché 2 è più piccolo Ma a sinistra c'è un altro numero 2 è più grande È più piccolo di sto numero Beh è più grande Quindi va a destra Di questo numero Va bene? Così che funziona L'albero binario Quando viene fatta la insert Ok? Così è ancora più semplice Vedere se avete fatto giusto Alla fine E riuscite a controllarlo Ok? Quindi a destra del nodo Ci sono solo elementi più grandi Del nodo E a sinistra del nodo Ci sono solo elementi Più piccoli del nodo Vedete? A sinistra c'è solo 1 E 2 Che sono più piccoli Di 3 A destra c'è niente Perché non c'è un elemento Più grande di 3 Qua ovviamente sarebbe stato diverso Non state più a guardarlo Questo E a destra di 1 C'è solo un elemento più grande Di 1 Che è 2 E a sinistra di 1 Non ci sono elementi più piccoli di 1 Perché 1 è l'elemento più piccolo E a destra e a sinistra di 2 Non ci sono elementi Ok? Va bene È chiaro come funziona la insert Dell'albero Non l'ho salvata Così è rimasta quella vecchia Però penso che Si sia chiarito tutto La cosa più difficile Dei metodi Di questi metodi qua Sugli alberi Ok? Non è tanto la insert Perché dovreste Piano piano Se fate 3 o 4 esercizi Imparate praticamente A farli a memoria Le insert Cioè sapete già A che punto sarete All'ultima insert Lo sapete già disegnare Senza farvi tutti i passaggi Ma il metodo nuovo Che viene creato ogni volta Tipo Renumber Order Roba così Ok? Quello è la parte difficile La insert dovreste Piano piano imparare A capire come Viene fatto l'albero All'ultima insert Cioè come esce l'albero Ovviamente la insert L'ho fatta in ordine E niente Ok? Ci siamo Allora Mi era stato proposto Un altro esercizio Che penso Non so se è un Penso sia uno del pratico Riscarico Un secondo che li prendo Che non li trovo Node list Main list E node E andiamo a mettere Nella cartella giusta Questo pc Di otanti Sul desktop E Nuovo Non collegamento Nuovo Es proposto Ok Adesso dovrebbe comparire Tipo No qua non comparirà mai Devo uscire A Vabbè non fa niente Facciamo così Facciamo Open folder Es proposto Ok 1 2 3 Ok questo qua è l'esercizio Che era stato proposto Che è un esercizio Del pratico Nel frattempo Se avete altri da proporre Iniziate a mandare A chiedere Così li metto in coda Diciamo Allora Qua abbiamo Un list Main Un node E abbiamo Qual il problema Elimina ultimo Se è più grande Metodo che elimina L'ultimo elemento Di una lista Se è il più grande Della lista Alcuni esempi Risultati attesi Bla 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 Ok Allora Questo ovviamente È ricorsivo Ed è un void È un void Ricorsivo Sì Ok È un void Ricorsivo Vuol dire Che Sì 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 Allora Vabbè Non importa Nel frattempo Vabbiamo Farlo Poi vediamo Allora Lui vuole Che io elimini L'ultimo Se è il più grande Della lista Quindi In realtà Cosa devo fare Posso andare fino all'ultimo E poi dire cosa Posso ricostruire La lina Posso 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 Ci penso un secondo Che non l'ho mai fatto Questo col void L'avevo fatto con node Uguale identico Penso Vediamo intanto Se c'è qualche Metodo List Insert First Insert First Perché c'è il metodo Insert First Ok Poi abbiamo ToString Vabbè Chiaramente Node Abbiamo questi Nel main Semplicemente E ora abbiamo L'Insert First Ok Quindi Come faccio A controllare Se è il più grande Poi se è ancora tempo Oggi pomeriggio Se puoi fare la tipologia Di esercizi Due E uno Della propria vittoria Ne avremo bisogno Certo Voi mandate Su telegram Poi quando riapro la stream Ve li mandate Su telegram E faccio anche quelli E io sono qua per farli tutti Perciò Quindi Allora Adesso stavo pensando A come far questo Perché È abbastanza tosto Nel senso che sto pensando A Allora Se io chiamo il next Ultima L'attuale Il nodo attuale Sarà quel Ma io qua Sono dentro a nodo Sono dentro a lista Sono dentro a lista Quindi sono dentro a tutta la lista Quindi elimina ultimo Se è più grande È un metodo Della lista Giusto? Sì Giusto Il metodo della lista Di conseguenza Allora Io posso ricostruire la lista E poi controllare Ma è da fare per forza ricorsivo Sì no? No c'è scritto niente no? Quindi posso farlo anche iterativo Ah ma se posso farlo iterativo È una puttanata Se posso fare l'iterativo È abbastanza semplice Perché posso crearmi un inten Uguale Beh si lo faccio iterativo Poi al massimo vediamo Se si può fare ricorsivo Io posso fare un Intel uguale a first.getelem Perché il ricorsivo è un po' più complicato Però iterativo è semplicissimo Allora Intel uguale a first.getelem Così Vabbè facciamo max Ok Poi cosa faccio Faccio Cosa faccio Faccio un Sono dentro la lista Posso fare Un node Un node X Un node act Un node Un node Posso fare un Vabbè facciamolo come lo vogliono i professori Così viene un po' meglio Non è uguale a new node Ovviamente è actual È uguale a first This.first Qua devo prima controllare Se First.getelem Se first è diverso da null Ok Poi Il prac uguale a null Poi Ah se è il più grande Ah ok Quindi se è già il più grande A prescindere Perfetto Quindi Poi cosa possiamo fare Possiamo fare Che se Allora facciamo un while Act diverso da null Possiamo dire Se This.next È diverso È uguale o uguale a null Quindi se il prossimo Sarà get next Probabilmente perché volevo usare le cose Get next È uguale o uguale a null Allora cosa vado a fare Vado a fare Non this ovviamente Act.get next E' uguale a null Cosa vado a fare Vado a fare un Controllo Con max No in realtà Sì In realtà Sì Forse no Act Personal Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Ok Così almeno Oddio Ho svuoppato gli schi Cosa è successo? Oddio Ho chiuso tutto tipo OBS Ho cambiato schermo Raga qualcuno sa dirmi Come si ricambia lo schermo Non ho idea Il fatto è che non posso neanche leggere Vado su Twitch Qua Wtf Scusate Ehm Ecco Canale Qualcuno sa dirmi Come si ritabba lo schermo Che non ho idea Ok Cioè Sono passato un altro Ce l'ho fatta Ah Che bello Scusatemi Sono un po' stupido Ehm Niente Ho sbagliato Allora Dicevamo Intanto lo ritabbo così Chiudo Qua chiudo questo E poi lo ritabbo Ok Ci dovremmo essere Scusatemi Ho premuto Windows tab Allora Act.getnext Di personal Perché Così Quando Act È l'ultimo elemento Io esco Ho fatto in questo modo qua Ok Adesso io lo scrivo Poi dopo lo spiego Facciamo così Cosa faccio adesso? Faccio se This.elem Scusate This è sempre Act.getelem È Maggiore Di max Allora Mannaggia Allora Max È uguale ad act.getelem Quindi cosa faccio? Io per tutto quanto controllo qual è il più alto Quando io arrivo al termine di questo Cosa faccio? Faccio se Act Se act.getelem È maggiore di max Se è il più grande va eliminato mi pare No? Quindi se è maggiore di max Allora Se act è diverso da first Allora Faccio Prack Uguale a Act.getnext Altrimenti E perché fa sta cosa? Devo toglierla poi Altrimenti vuol dire che è uguale a first Quindi faccio first uguale a first.getnext E altrimenti niente Quindi in questo modo qua dovrebbe andare Adesso controllo e poi lo spiego Main.java Ok ok Errore Si vede che Ah perché se è solo un elemento va eliminato Giusto giusto Allora facciamo così Facciamo che se Se è solo un elemento va eliminato Ah Ma l'ho fatto No non l'ho fatto Sono stupido Allora l'unico momento in cui è quello È questo momento qua Quindi facciamo Che In questo modo qua dovrebbe andare Ma qua è crashato in loop Perché è crashato in loop Uno due Ah beh giustamente se non vado avanti con Act Non finirà mai E qua mi dà sempre errore Perché Mi dà errore Maggiore o uguale No non penso Come dà errore perché probabilmente io non lo elimino Cioè Non probabilmente Io non lo elimino Il fatto che io non lo elimini Vuol dire che qua Max Allora io Max lo faccio così 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 Qua quando viene Get next Diverso null Quindi appena divento Quella null Esce Di conseguenza Il mio Act È due Due è maggiore di uno Sì Allora Se è maggiore di uno Act è diverso da First Ma qua non devo neanche controllare Se Act è diverso da First Se io entro qua O forse sì Sì no Tanto è uguale Ok vediamo Forse così è giusto No Non capisco perché Cazzarola Allora lui non mi elimina due Io dico Act.getElem Dove Act sarà due Due maggiore di uno Si Se Act.getElem È maggiore di Max Beh io sono a due In questo momento qua No Facciamo così E facciamo Prest Se almeno La risolviamo Senza troppi intoppi Per capire Qual è il problema Qua da errore Ma è due Effettivamente Quindi Max Probabilmente Non è quello giusto Se Max È uguale a due Ho sbagliato Ma Max Non penso che sia uguale a due È uguale a uno Ah probabilmente Non l'ho Ah sì giusto Se non faccio andare avanti I Prec Raga è inutile Che Prec uguale Act Se no non funzionerà mai Che scemo Ora è giusto Come no Prec uguale Act Ho salvato Possibile 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 Prec Uguale Prec Punto Get Puttoset Next Madonna raga Sono un po' Da un po' che non li faccio Quindi sbaglio Stesse tronzate qua Scusatemi Adesso dovrebbe essere giusto Ok Scusatemi Ehm Sì Vediamo se si può fare ancora più ottimizzato Ehm Semplicemente No Beh dovrebbe Dovrebbe essere già buono così Secondo me Potremmo forse ottimizzarlo di più Quello sì Qualcosa si può fare sicuramente Cioè potremmo renderlo più corto In qualche modo però Penso vada bene anche così Tanto Quello non ci interessa Il preco non va avanti Boh Ok Ehm Non è chiara la soluzione Non mi ricordo chi me l'ha chiesto Se non è chiara La spiego Facciamo così Allora Semplicemente Io Inizializzo Max Al Primo Elemento Della lista Perché faccio questo Semplicemente perché Così ho un valore Da cui partire Perché io potrei inizializzare Max a Meno 999 Così sono abbastanza sicuro Che il first Sia Più grande di max E quindi vada A sostituirmelo Però non è una cosa furba In senso che se il first fosse Se tutti i numeri fossero Minori di meno 999 Non funzionerebbe Il programma Va bene? Questo è il discorso Cioè se fossero tutti Meno 1000 Meno 1000 1 Meno 1000 2 Non funzionerebbe Ok quindi io cosa faccio Io dico Beh io prendo first Come max iniziale Poi cosa dico Nodo attuale Cioè quello di scorrimento Di scorrimento E parte Da first Ok Nodo Precedente Parte da null Ok Fino a quando Non act È diverso Dall'ultimo Nodo Della lista Ok Fino a quando act Non è l'ultimo Nodo Della lista Cosa succede? Succede che Controllo Se il Nodo attuale È Maggiore Dell'attuale Max Ok Se lo è Allora Lui È il nuovo Maggiore Incremento Precedente Incremento Attuale Fine ciclo Alla fine Del ciclo In max Avrò Memorizzato Il nodo Più grande Della lista A parte L'ultimo Ovviamente Alla fine Del ciclo Act Sarà Starà Act Starà Puntando All'ultimo Nodo Della lista E Prec Al penultimo Ok Se L'ultimo Nodo È più Grande Dov'è L'ho Accentata Vabbè Non importa Perché ho Il layout Americano O inglese Che cazzo È Sulla tastiera Quindi Non Non ho lettere Giuste Nel posto Giusto Ok Dicevamo Se l'ultimo Nodo È più Grande Del Massimo Trovato Allora Assegno Al successivo Del penultimo Il successivo Dell'ultimo Cioè nullo ovviamente Potrei anche scrivere nullo Ok Altrimenti Se non Se non È Il massimo Ma L'act Che abbiamo detto Essere L'ultimo Nodo Della lista È anche Il primo Allora Vuol dire Che c'è Un solo Nodo Quindi Va Eliminato Come da esempio Quindi Assegno Al first Il prossimo Di first Cioè Il secondo Nodo Ovvero Nulla In questo caso Ok Vabbè ovviamente Se esiste Almeno Un nodo Entro Se Non esiste Nessun nodo Non faccio Nulla Va bene Come l'ho risolto Si può risolvere In 300.000 modi Possiamo anche Vederne un altro Però Non è utile Nel senso che Ognuno Ovviamente Lo risolverà In modo suo Si può fare Con un nodo Solo Si può fare In mille modi Diversi Ok Si può fare Anche con un nodo Si può fare Anche con tre nodi Anche se Inutile tre nodi Probabilmente Però si può fare Con un if in meno Magari adesso Se mi mettesse a controllare Potrei trovare un if in meno Comunque Così dovrebbe essere Da due punti Ok Non dovrebbero darvi problemi Tanto non c'è nulla di strano In tutto questo Anzi Penso che sarebbe La soluzione Preferibile Dai professori Anche perché Vi preannuncio Che ai professori Se la vostra soluzione È straottimizzata Ma loro non riescono A capirla Perché magari È complicata Il ragionamento Però magari avete messo Un while E un if Ok Che sarebbe il meglio possibile Magari dal punto di vista Del codice Ma loro non riescono A capire Il vostro ragionamento Vi danno uno Perciò Fatelo in modo tale Che sia chiaro Sia il codice Che Che la soluzione Con meno variabili possibili Qua abbiamo solo tre Abbiamo due node E un int Ok Spero che sia Chiaro Questo Se volete Propormi ancora Un ultimo esercizio Magari del pratico C'è ancora Un quarto d'ora Si può fare Se no Ci vediamo oggi pomeriggio Semplicemente Se non avete domande Ci vediamo Esercizio 4 Di che Della teoria Che sarebbe sempre Stack e hip Intendi sempre Stack e hip Ah Ok Va bene Datemi Una Una prova di teoria Magari su telegram La scarico La apro E la vediamo Ok Questa qua L'abbiamo fatto Vabbè in realtà Posso forse Rutilizzare questo Questo qua no Va bene Se faccio questo Va bene a tutti Tanto ce l'ho già qui Comodo comodo Ok allora Io ho creato Una classe Di testing Adesso la apro Così che Così che Eccolo qua Così che io posso Incollarmi i vari main Le interfali Intanto questo qua Lo mettiamo già qua Così possiamo testare Anche quello che dico Che magari Non è Sicuro al 100% Quindi ci può stare Spero di non aver scritto Una cosa Scusate Faccio un test Ma dovrebbe funzionare Lo controllo solo Che parta Che non abbia scritto Sbagliato qualcosa Mi sono scritto Sbagliato Ma forse va fuori In realtà Tutto ciò Magari sopra Qui Perché avevano tanta voglia Di indentare di nuovo Tutta la roba Però Scusate Vedo solo un attimo Se non mi da errori Yo yo Ah non l'ho salvato Ma come non l'ho salvato Perché Stampa yo yo Che è quello vecchio Oltretutto Prima riaprirlo Java Testing Punto Java Java Testing Niente Non capisco Proviamo a dargli errore Ma perché se non funziona Con le hit Ok Allora non sei stupido System Punto Line Line Eh no Stampa Sempre io 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 non ho ancora capito Il perché A provo a riaprirlo Perché non ha senso Cancello il file class Un attimo Che se no Non riusciamo a testare Se quello che faccio È giusto Quindi Qua cancelliamo Questo Ok Dovrebbe andare Adesso Speriamo Lo chiudo Lo riapro Ok Apriolo Lo apre così Java Testing Punto Java La testing Ma come Ah Boh Un attimo Ma che si qua Per forza dentro Non voglio dire Una cagata Ma Ma poi qua è chiuso Perché è chiuso Ok Cosa c'hai Class Manca Una Graffa Giusto Sì Giusto Proprio Static Void Main È giusto Perché mi dici Di no Stronzo Questo perché Qua dentro Ho fatto qualche casino Probabilmente Ok Forse così Potrebbe andare Adesso Vabbè raga Non importa Lo faccio Eh Poi dopo Vedo come rifare Sta cosa qua Che l'avevo fatto Una volta Adesso non mi viene Più in mente Perché fa questa Cosa qua Allora Non mi da fastidio Che non vada Ok Ricidendo File Out Parsing Blablabla Perché qua Manca una Adesso 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 forse Giusto Spero Oh Olè Ce l'ho fatta Non so Probabilmente Copiando Cioè Facendo taglia In colla Succedeva qualche casino E non andava Comunque ci siamo Adesso dovrebbe andare Così riesco a testarli Dicevamo Allora Abbiamo Interface Blablabla Se si eliminasse Il metodo M1 M1 Dall'interfaccia B Il codice sarebbe Comunque corretto Perché Allora Il metodo M1 Dall'interfaccia B Allora Intanto M1 Ricordiamo che è uguale Identico Ed è anche dichiarato In A E quindi Se lo eliminiamo da B In realtà Non ci interessa Perché Perché Tanto Perché non ci interessa Perché Tanto Intanto Anche se lo eliminassimo Anche da A Diventerebbe inutile Ma M1 Non ci interessa Perché qua Può essere dichiarato Se vuole a suo piacimento Ok E Non ci interessa Che venga cancellato Dall'interfaccia No Sì E quello Quello è una parte Del discorso Ma lo stesso discorso Vale per il fatto Che se lo cancellassi Da qua E anche da qua A me non interesserebbe Perché C può implementare Un M1 Suo Come implementa No vabbè Non implementa nessun altro metodo Però può implementare Anche un M1 Suo Ok Quindi se noi cancelliamo Dall'interfaccia In realtà Non ci interessa Non ci interessa A prescindere Di norma Ok Perché qua Se anche lo cancellassi da A Sarebbe un'interfaccia inutile Va bene Però Non Non cambierebbe nulla Perché io posso dichiarare Un void M1 Dicci che voglio io Ok Capito Capito il discorso Non ci interessa Va bene Perché tanto M1 Anche dichiarati Va bene Se lo eliminassi da tutte e due Non darebbe errore Lo stesso Ok Adesso lo voglio verificare Con voi Però non darebbe errore Lo stesso Perché nel momento in cui Io tolgo il void M1 Da qui E lo tolgo anche da qui Se io adesso Eseguo Ok Non da problemi Non mi da nessun errore Neanche se io adesso Andassi a richiamarlo Se io adesso Facessi un Vabbè ovviamente Darebbe errori Con un certo tipo di main Però se io adesso Facessi c uguale C obj uguale new c E chiamassi c.m1 Che non so cosa faccia Penso sia solo una stampa Quindi obj.m1 Ok Lui non mi può dare errori Per il semplice fatto che M1 è definito dentro c Sì bene Allora chi se ne frega Funziona Ok Non funziona probabilmente Nel momento in cui Io faccio a obj uguale new c Allora in questo momento qua Se m1 non è presente Scusate Se Niente Devo riscrivere tutto Se m1 non è già presente In A Probabilmente da errore Per il semplice fatto che Esatto Obj M1 Non è dichiarato in A Ok Ma solo con questo tipo di main Però lui dice A prescindere dal main Ok Che saranno questi qua Da errore No Beh io posso cancellarlo anche da tutte e due Basta che poi il codice sia scritto nel modo giusto Ma non da errore Non è un problema Ok Se io cancello un m1 Dall'interfaccia Da tutte e due Ok Non è un problema Se c'è un m1 in C Non da errore Perché C può implementare un proprio metodo m1 Che non c'entri niente con i padri A e B Ok E' chiaro? Il perché m1 Posso cancellarlo a prescindere Che non ci fosse neanche il metodo A L'interfaccia A E quando fosse implementata Ok Se mi dicesse solo class C Implements B E ci fosse solo interface B Public void m1 Public void m2 Cancellasse m1 Andrebbe bene lo stesso Per il semplice fatto che M1 può essere anche solo un metodo Implementato solo da C Chi se ne frega Di A e B Va bene? Questo è il discorso E' chiaro? Serpente Perfetto Quindi m1 a prescindere Noi possiamo eliminarlo Quindi Possiamo scrivere in realtà Come Come Risposta M1 può essere cancellato Da B E il codice sarebbe corretto Perché C potrebbe Implementare un metodo m1 Su proprio Anche se m1 comunque Rimane dichiarato in A Cioè nel senso Il fatto che non Dio errore Non è perché è dichiarato in A Ma per il semplice fatto Che eliminandolo dall'interfaccia Non ci dà problemi Eliminare Possiamo dire così Eliminare un metodo dall'interfaccia Non dà errore Possiamo anche dire così Ok Se io eliminassi tutto Da ste interfacce Ok Lasciassi il codice così E lasciassi interface B Interface A Vuoti Ok Non darebbe problemi qui Perché Possono essere tutti i metodi di C Chi se ne frega A lui non interessa Ok Qua richiederà una OBJ Va bene Chi se ne frega Non è importante questo Il fatto è che Sono suoi Semplicemente Posso eliminarli da qua dentro Volendo Ok Quindi a prescindere Ok Questo era il discorso Che volevo fare Adesso rimettiamo a posto Che probabilmente ci sarà da testare Qualche cosa Adesso Il seguente codice è corretto Se non spiegherò il perché Se si determina Le cose stampa B OBJ1 Uguale a new C OBJ1 Punto M2 OBJ1 Allora B OBJ1 E va bene Quindi è di tipologia B Un nuovo C Quindi tipo reale C Tipo apparente B OBJ1 Punto M2 Passando un OBJ Esiste Sì M2 Di B Passando una OBJ Qua però stiamo passando un B OBJ Quindi in teoria dovrebbe dare errore Per questo motivo qua Perché lui si aspetta una OBJ Ma l'OBJ di tipo B Anche se il tipo reale è giusto Però mi sembra Che debba dare errore Dicendo che B Cannot be converted to A E dai Provo E no L'ha già fatto B cannot be converted to A Ok Esattamente quello che ho detto Perché? Perché OBJ1 È di tipo apparente B È di tipo reale C Ok? Nel momento in cui io chiamo OBJ1 Punto M2 Non dà problemi Ma lì Qua dentro Lui qua dentro Vuole un oggetto di tipo A Va bene? Questo è il discorso E B Non può essere castato ad A Perché non hanno nessuna Non hanno nessun collegamento Ok? Tra loro Diretto C'è solo C Che li implementa tutte e due Ma allora Se fosse scritto C O fosse scritto in questo modo qua Non darebbe errore Ok? In questo modo qui Dovrebbe essere giusto Ok? Non dà errore Per il semplice fatto che C può essere convertito in A Se questo qua fosse direttamente Uno OBJ di tipo C Può essere convertito in A Perché C È il figlio di A Quindi può essere convertito con Tipo apparente A E tipo reale C Ma se è di tipo B Il tipo apparente B Non può essere convertito in A Perché non hanno nessun legame Tra loro Ok? Quindi non potendo essere convertiti L'uno nell'altro Dà errore Dice B cannot be converted to A Perché non hanno nessun legame Chiaro? Punto 2 Quindi Errore perché Perché B cannot be converted to A Alla riga 2 Quando viene passato OBJ1 Al metodo M2 Ok? Chiaro a tutti? Tutti quanti? Se c'è qualcuno A cui non è chiaro Lo scriva Se no va bene Così andiamo avanti Ok? Ora Tra il seguente codice È corretto Se non spiegare perché È sempre la stessa roba B OBJ1 Uguale a new C Uguale a prima OBJ1.M2 New C Ok? A questo punto Non dà errori Va bene? Perché non dà errori? Perché Allora intanto è un new C Ricordiamoci Essendo un new C È un altro È un altro oggetto creato nell'hip Non è questo oggetto qua Con tipo apparente B E tipo reale C Sarà un nuovo oggetto C Che nella nostra funzione Avrà tipo apparente A E tipo reale C Ok? Quindi funziona Perché C può essere convertito in A Esattamente più o meno Il L'esempio che ho fatto prima Ok? Quindi in questo caso qua Non dà errori Rivediamo se dà errori In interni Ma non penso Vediamo cosa stampa Stampa B.M3 Eh Facciamo Blocco note Facciamo così Stampa B.M3 E va bene Poi cosa fa? Chiama se stesso.M2 Ma se stesso È un oggetto di tipo Apparente Forse è d'errore Ci penso un secondo Probabilmente è d'errore A prescindere Perché è dis.M2 Ah no Non è vero Dis.M2 vuol dire No non dà errore Scusate Dis.M2 lo chiama Perché siamo dentro AC Ok? Quindi chiama se stesso.M2 Quindi c'è b.M2 E poi c'è dis.M1 Quindi c.M1 Dovrebbe essere giusto Dovrebbe stampare questo Adesso controllo Ma dovrebbe essere giusto Mettiamo Salviamo Ok B.M3 B.M2 C.M1 B.M3 B.M2 C.M1 Perfetto Ok adesso magari spiego il perché Se non è chiaro Allora cosa succede? Succede questo Succede che Viene chiamato B. Allora viene creato Un obj1 Di tipo apparente B Di tipo reale C E fin qua ci siamo Di obj1 Viene chiamato M2 Passando un new C Allora Intanto Obj1 Implementa M2 Allora di tipo apparente B Implementa M2 Con un passaggio di oggetto Sì Lo implementa Quindi qua non c'è problema Scendiamo al tipo reale BAM Qua Ok Vuole un obj C'è anche scritto anche qui Vuole un obj Quali stiamo passando un obj? Beh in realtà sì Perché C E di tipo reale Cioè Questo qua è un oggetto di tipo reale C Va bene? Questo è sicuro Ma C può essere convertito in A Certo perché C è una classe che implementa Quindi può essere convertito in A Ok quindi Quando entreremo Dentro a questo metodo Obj Ok Sarà un oggetto di tipo apparente A E di tipo reale C Va bene? Quindi Non dà problemi Quindi entriamo Entriamo e stampa M3 Fin qua ci siamo Siamo sicuri Dis.m2 Posso farlo? Beh sì posso farlo Perché? Perché Io sono già dentro C E Dis che cos'è? È questo Ok questo obj1 Ok Però io sono già dentro C Quindi non ho problemi a fare punto M2 Anche se lui non implementa M2 Ma io non sto partendo Non sto facendo B punto M2 Sto facendo C punto M2 Perché sono già dentro a C Ok? Il dis Intende Se stesso Cioè l'oggetto C nel leap Ci siamo? Questo è il concetto Ok? Per questo non dà errore Non dice B non implementa M2 Per il semplice fatto che Dis Io sono dentro a C Ok? Come ho fatto vedere anche prima Se io sono nel leap Ho perso la freccia L'ho trovata Se io sono nel leap E ho Questo che è C Ok? Che è stato creato nel leap E ho nello stack Invece È come prima albero Con tritti E new branch Ok? In realtà Semplicemente Qua avremo un Non so come si chiama Obj1 Obj1 Di tipo B Ok? Però in realtà Questo punta A un C Quando io chiamo Il metodo M2 Aobj Ok? Questo è M2 Aobj Vabbè avete capito? Ok? Il dis punta qui Quindi io posso chiamare Dis Punto M2 Certo che posso chiamarlo Perché dis è C Quindi qua ci sarà un C Punto M2 Ok? Ci siamo? Questo è dis Quindi qua non dà errore Chiama dis punto M2 Cosa fa dis punto M2? Beh stampa BM2 Quindi abbiamo BM3 BM2 Dis punto M1 Per lo stesso principio Può farlo E quindi vado in M1 Ed è C punto M1 Quindi stampa questi in sequenza Ok? È chiaro? Perché funzioni E perché stampi quello? Spero sia chiaro Se qualcuno non è chiaro Intervenga adesso Che io tra poco stacco C'è finito quest'ultimo Chiedo se è chiaro E stacco Ora Abbiamo B OBJ Uguale a new C Si può fare Sempre la stessa cosa OBJ punto M2 Posso farlo? Beh Non posso farlo Perché B non implementa Nessun metodo M2 E quindi mi dà errore Non è chiaro Allora Finisco di fare il 4 E rispiego il 3 Va bene? Allora intanto qua Abbiamo detto E qua non può farlo Perché OBJ È tipo apparente B M2 Non esiste in B E quindi dà errore È per lo stesso principio Che sto spiegando ora Anche se è impossibile Che una volta che sei qua dentro Sia B Perché quando sei qua dentro Il D è sempre C Va bene? Non ho capito Ricce se non hai capito Il 2 Il 3 O il 4 Penso il 3 Però adesso finisco il 4 E ti spiego di nuovo il 3 Tanto è facile in realtà Ve l'ho fatta io Un po' più difficile Di quello che sembra Forse Cioè OBJ punto M2 Non può essere fatto Per esempio ci fa Che è Se io Intanto vi faccio vedere L'error che dà Vabbè l'ha già fatto in realtà Metodo M2 Interface B Cannot be applied to given types Ok? Perché Vabbè meglio ancora in realtà M2 può essere fatto In realtà di B Ma B Chiede un elemento Che sia passato in M2 Va bene? Perché M2 esiste Nell'interfaccia B Di tipo apparente No? OBJ di tipo apparente B Quindi noi stiamo chiamando Un B punto M2 Ok? C ce l'ha M2 Va bene Ma qua quindi Se ci fosse un cast a C Funzionerebbe Ma dato che non c'è un cast a C Noi abbiamo un B punto M2 Senza passare niente Ma B vuole qualcosa Quindi da errore Perché dice Io sto aspettando Io voglio un OBJ Va bene? Non può essere Il metodo M2 Dell'interfaccia B Non può essere applicata Ai tipi passati Perché? Perché chiedo un tipo A Ma non ho nessun argomento passato Questo è l'errore Va bene? Questo ve lo spiega in realtà Il compilatore Quando lo fate Errore Il metodo M2 Nell'interfaccia B Non può essere applicato Ai tipi Alle tipologie passate Vi fa vedere dov'è Required Una tipologia A Che non è stata passata Perché cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato un no arguments Cioè niente Bene? Non è stato passato niente Quindi da errore Anche se M2 c'è in C Ma da errore Ok? Perché B non ce l'ha Un M2 Se qua ci fosse un public void M2 Aperta tonda Chiusa tonda Punta virgola Andrebbe a fare quello Ma c'è solo questo E questo vuole un OBJ Se tu non glielo passi E lo richiami Da errore Va bene? Va bene il 4? Anche tu Ricci hai capito il 4 Il perché d'errore Ok Allora il discorso del 3 è questo Semplicemente Il discorso del 3 è che Qua entra Per il semplice fatto che OBJ1 è tipo apparente B Tipo reale C OBJ1.M2 viene richiamato Passando un new C Che ha tipo apparente A E tipo reale C Quindi va bene Perché C può essere convertito in A Fin qua spero ci siamo Viene stampato questo E qua viene fatto il dis.m2 Ok Dis.m2 può essere fatto Perché dis è C Ok Ci siamo? Il perché può essere fatto M2 Perché dis E come fare un C.m E come scrivere C.m2 Ok Perché dis Dis Di Di M2 Nel Nel leap Come ho fatto vedere prima Nello stack Come ho fatto vedere prima Punta C Ok Ci siamo? Adesso magari lo risegno Qua viene richiamato L'M2 Abbiamo detto Questo M2 Che è un B.m2 A OBJ Non so scrivere questa matita In che senso nel caso Possiamo nel B E quello che ho spiegato Cioè È il 4 Perché non funziona Non funziona OBJ.m2 Perché OBJ è di tipo B Capito? Dis qua funziona Perché dis è di tipo C Essendo di tipo C dis Fa C.m2 C.m2 Possiamo farlo E B.m2 Che non possiamo fare Come hai visto qua Questo è il motivo Per cui non funziona È chiaro? Cioè È più complicata Di come la Magari la sto facendo Però Qua In questo metodo qua Avremo un dis Che punta Qui Ok Avendo un dis Che punta qui Quando io richiamo Dis Dis di qui Qui dentro Sto chiamando Un tipo C Quindi posso farlo C.m2 Sì certo che posso farlo Vado qua Ok? Va bene? Quindi qua verrà chiamato Un C.m2 Nello stack Creava dis Sempre che punta A C E quindi quando viene chiamato Dis.m1 Posso fare l'm1 Va bene? Viene chiamato un C.m1 Non un A o un B Ok? Avremo un dis Sempre che punta qua Ok? Questo è il discorso Esatto No? Esatto Sì sarebbe lo stesso errore Che da qua E' logico che non può capitare Una volta che sei qua dentro Che dis sia B Dis è per forza C Quando sei qua dentro Perché dis È Un puntatore Che punta Nell'ip A C Per forza Ok? Ci siamo? È chiaro il discorso Adesso Ok Quindi bo Queste sono Queste sono le casistiche Oggi pomeriggio Oltre a fare altri Di questi esercizi qua Magari l'1 E il 2 Magari anche qualche assert Volevo anche spiegare Due casi particolari Che sono stati messi Nelle prove Già Nel secondo Appello Che magari Non a tutti Sono chiari In senso C'è stato qualcuno Che è stato fregato Diciamo Nella prova Dal fatto che ci fossero Dei metodi Dei metodi qua Che non venivano implementati qua E questa cosa Diceva Non va bene Sbagliato Però in realtà In alcuni casi Può succedere Vi spiegherò Magari quali sono Quali sono I metodi Che possono essere Qua nell'interfaccia Ma possono non essere Nella classe Che implementa l'interfaccia Solo questo Adesso sono le 12 E 11 Direi che stacco qua Per stamattina E ricomincio poi Alle 2 e mezza Mi pare Come avevo detto Mi sembra 2 e mezza Adesso magari Lo pinno Così ce l'ho anche io Lì Sì alle 14 e 30 Ricomincio Ok Lo fisso così Così almeno ce l'ho anche io lì Ok A posto Buon appetito a tutti Ciao ciao Buon appetito a tutti